Avvocato Bortolotti, un altro tema molto sentito in questa fase di emergenza e che ha a che fare con le conseguenze economiche dell'emergenza stessa è quello delle locazioni, sia commerciali sia private. Che cosa le chiedono i suoi clienti? Senz'altro, è una tematica di grandissima attualità e che non esito a definire anche piuttosto drammatica. È evidente che le difficoltà di carattere finanziario, economico generalizzate hanno colpito anche sotto questo aspetto i soggetti, tanto società quanto persone fisiche appunto, che sono tenuti al pagamento di un canone periodico, mensile a volte anche abbastanza alto. Nel caso soprattutto delle delle società. I rimedi dal punto di vista giuridico esistono, ma non sono decisivi. È chiaro che noi dobbiamo fare un discorso molto pratico per farci comprendere al meglio. Possiamo dire che è evidente che il conduttore, tanto in ambito di locazione commerciale, quindi negozi, uffici, aziende, quanto in ambito di locazione abitativa, quindi le normali abitazioni, è sconsigliato che interrompa del tutto, salvo casi ovviamente di drammaticità estrema, il pagamento del dovuto per canone. Quello che si può fare è che la legge dà modo di fare e di rivolgersi al proprio locatore, quindi il proprietario, segnalando la vera e propria impossibilità sopravvenuta, questa è una norma di legge che si ritrova nella legge generale del codice civile, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, in questo caso al conduttore, di adempiere alla propria obbligazione. Questa è una comunicazione che va fatta per iscritto, va fatta in maniera precisa e deve essere fatta in modo da concludersi con la richiesta esplicita di una rinegoziazione del dovuto, del canone dovuto, oppure della formalizzazione di un importante piano di rientro, intelligente piano di rientro, che permetta al soggetto in difficoltà di rientrare da questa situazione di grande disagio. Devo dire che non è corretto affermare che il proprietario può disinteressarsi totalmente di questa segnalazione perché l'affitto bisogna pagarlo, non è propriamente così. Nei casi estremi, nei casi in cui il proprietario non dia minimamente ascolto o dia seguito alcuno a questa richiesta oggettiva e fondata del conduttore, ripeto, tanto in sede di locazione commerciale quanto abitativa, è possibile, nei casi estremi è possibile, e ci sono da ultimo alcune pronunce dei tribunali di merito in questo senso, è possibile a dire il giudice per segnalare da un lato la fondatezza della eccezione di impossibilità sopravvenuta per fatti non imputabili al debitore che magari ha dovuto chiudere l'azienda, ha perso il lavoro perché è impiegato in un'attività che è stata completamente azzerata dalla pandemia. Quindi segnalare e provare la realtà dell'impossibilità sopravvenuta e dall'altra appellarsi all'altro principio di legge generale per cui le parti sono obbligate a comportarsi secondo canoni di buona fede e di solidarietà. È un principio anche costituzionale. Quindi non si può certamente dire che solo perché si è in difficoltà a causa della pandemia le obbligazioni del contratto di locazione non esistono più, ma dall'altra parte è corretto dire che entrambe le parti, entrambi gli attori del contratto devono assumersi la responsabilità della situazione contingente e quindi anche i proprietari devono venire incontro alle difficoltà dei conduttori.